La promessa Anticipazioni Nel prossimo episodio della serie La Promessa ci attende una rivelazione scioccante che lascerà tutti senza fiato. È possibile che Thomas non sia morto? Un ritorno tanto atteso quanto incredibile potrebbe cambiare il destino di tutti i personaggi. Ma prima di continuare, se vuoi rimanere aggiornata e ricevere in anteprima i video della promessa, scrivi sì nei commenti. Ricominciamo. Durante il processo in cui Alonso è accusato ingiustamente di un crimine che non ha commesso, un evento inaspettato sconvolgerà ogni certezza. Improvvisamente, Thomas farà il suo ritorno trionfale e la sua presenza in aula lascerà tutti di sasso. Tra i più sconvolti ci sarà Cruz, che non potrà credere ai suoi occhi nel vedere il figliastro tornato in vita e pronto a smascherarla davanti a tutti. Proprio nel momento in cui Cruz cercherà di fuggire dalle conseguenze delle sue azioni, Thomas la fermerà, rivelando non solo l'innocenza di suo padre, ma anche tre terribili segreti su di lei, che la condurranno alla punizione più dura mai vista nella serie. Cosa sarà disposto a fare, Thomas, per ottenere giustizia? Nel frattempo, al Palazzo dei Marchesi, la giornata sembra iniziare come qualsiasi altra. Maria, immersa nei suoi soliti compiti di pulizia, si ritrova nella vecchia stanza di Thomas, un luogo che sembra essere rimasto sospeso nel tempo da quando lui è scomparso. Gli oggetti e i ricordi sembrano ancora impregnati della sua presenza e un'atmosfera di nostalgia e malinconia permea l'aria. Maria, nonostante abbia lavorato in ogni angolo della casa, non può fare a meno di sentire un nodo allo stomaco ogni volta che entra in quella stanza. Ma oggi qualcosa di straordinario accadrà. Mentre spolvera un antico armadio, un piccolo oggetto scivola dallo scaffale, cadendo sul pavimento con un rumore sordo. Quando Maria si china per raccoglierlo, scopre un vecchio libro dalla copertina logora. Il diario di Thomas. Questo diario potrebbe contenere segreti che cambieranno per sempre la vita di tutti. Cosa sarà nascosto tra quelle pagine? Con le mani tremanti, Maria apre il diario e legge il nome di Thomas scritto sulla prima pagina. Il cuore le batte forte mentre comprende l'importanza di quella scoperta. Questo non è un semplice oggetto. Ma un pezzo intimo della vita di Thomas, che fino ad ora era rimasto nascosto a tutti. La tentazione di leggerlo è forte, ma la sua etica prevale. Decide di portare il diario a Catalina, la persona più vicina a Thomas, affinché possa scoprire la verità. Catalina, seduta in giardino, appare persa nei suoi pensieri quando Maria la trova e le consegna il diario. Catalina è visibilmente sorpresa e commossa dalla scoperta. Il diario di suo fratello, che nemmeno lei sapeva esistesse, ora è nelle sue mani. Con un senso di reverenza, lo apre e inizia a leggere. Le prime pagine rivelano il tormento interiore di Thomas, costretto a vivere secondo le aspettative del padre Alonso, che insisteva affinché sposasse una donna di alto rango sociale. Thomas si sentiva intrappolato in una vita che non aveva scelto. La frustrazione e il dolore trasudano dalle sue parole e Catalina non può fare a meno di sentire il peso di quelle emozioni. Ma è quando raggiunge una sezione specifica del diario che il mondo di Catalina crolla. Thomas descrive un terribile litigio con Alonso riguardo al matrimonio combinato, durante il quale suo padre lo avrebbe minacciato di togliergli la vita se avesse tentato di sottrarsi ai suoi ordini. Quelle parole sono devastanti per Catalina, che inizia a comprendere quanto suo padre abbia influito negativamente sulla vita di Thomas. È possibile che Alonso abbia avuto un ruolo nella morte di Thomas. La rivelazione è scioccante e Catalina si sente travolta dalla rabbia e dal dolore. Con il diario ancora tra le mani decide di affrontare suo padre e cercare risposte. Cosa nasconde davvero Alonso? Catalina, furiosa e determinata, si dirige verso il salotto, dove Alonso è seduto tranquillamente. Senza esitazione, getta il diario di Thomas sul tavolo davanti a lui e lo accusa di essere il responsabile della sofferenza e della morte del fratello. Alonso, visibilmente confuso e ferito dalle accuse, tenta di difendersi, ma le parole scritte da Thomas non lasciano spazio a dubbi. Catalina non vuole ascoltare scuse, vuole solo la verità. La tensione tra padre e figlia raggiunge il culmine e Alonso si trova costretto a confrontarsi con le sue azioni. Le pagine del diario rivelano un lato oscuro di Alonso che nessuno avrebbe mai immaginato. Quali altri segreti potrebbero venire a galla? Se sei ansioso di scoprire cosa succederà a Catalina e Alonso e quali segreti sconvolgenti saranno rivelati nel prossimo episodio della promessa, lascia un commento qui sotto. Scrivi «Voglio saperlo» e non perderti i prossimi aggiornamenti. Ogni tua opinione conta e vogliamo sapere cosa ne pensi di questo clamoroso colpo di scena. Ma non è finita qui. Thomas non è tornato solo per vendicarsi. Il diario contiene ulteriori rivelazioni che potrebbero ribaltare il corso degli eventi e cambiare per sempre la storia della famiglia. Cosa scoprirà ancora Catalina? Quali saranno le conseguenze delle azioni di Alonso? L'episodio si concluderà con una serie di eventi mozzafiato, ma questo è solo l'inizio. Gli intrighi e i segreti che ruotano attorno alla famiglia continueranno a crescere e il ritorno di Thomas non farà altro che accelerare il caos. Kruz, che fino a questo momento ha cercato di mantenere il controllo, vedrà tutto il suo mondo crollare. I segreti che Thomas è pronto a rivelare potrebbero distruggere non solo la sua reputazione, ma anche la sua stessa vita. Come reagirà Kruz quando tutti i suoi peccati verranno alla luce? Inoltre, un nuovo alleato potrebbe unirsi alla battaglia per la verità. Maria, dopo aver trovato il diario, sente che c'è ancora molto da scoprire e potrebbe diventare un personaggio chiave nella ricerca della giustizia per Thomas. Riuscirà Maria a svelare tutti i segreti nascosti nel palazzo? Tutti questi interrogativi ci conducono verso un futuro incerto, dove ogni personaggio dovrà affrontare le conseguenze delle proprie azioni. E tu? Sei pronto a scoprire cosa succederà nel prossimo episodio della Promessa? Lascia il tuo commento e preparati a restare senza parole. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere neanche un minuto di questa avvincente storia. La prossima puntata ti riserverà sorprese inaspettate e noi non vediamo l'ora di raccontarti tutto. Chi sarà il prossimo a cadere vittima delle macchinazioni? Riusciranno i protagonisti a sopravvivere alle rivelazioni di Thomas? Rimani con noi per scoprirlo, perché la Promessa ha ancora molto da svelare e potrebbe cambiare tutto.